Ieri ci aspettavamo di vedere perlomeno i famosi 5.000 lavoratori del porto manifestare assieme alle loro famiglie. In verità quella che doveva essere la grande manifestazione in difesa del crocerismo si è risolta in ben poca cosa, circa 300 persone e una quarantina di barche. Voce storica del comitato No Grandi Navi, Tommaso Cacciari è più abituato a partecipare alle manifestazioni piuttosto che ad osservarle dall'esterno e quella dei lavoratori del porto che si è svolta in bacino San Marco non l'ha affatto convinto. Abbiamo visto le legittime vertenze dei lavoratori del porto, le loro legittime preoccupazioni mescolarsi invece alla peggior politica di campagna elettorale. Abbiamo visto gli speculatori di ieri e di oggi che in questa città l'hanno assaltata e l'hanno depredata tifare per il continuo passaggio delle grandi navi a San Marco. Abbiamo visto speculazioni di ogni tipo e strumentalizzazioni di ogni tipo. Chi pensa ad una contrapposizione tra sì navi e no grandi navi però si sbaglia, aggiunge Cacciari, che ricorda come in realtà le esigenze e i punti di contatto tra le parti non siano pochi. Noi diciamo da sempre che siamo vicini ai lavoratori del porto, quelli veri, quelli che esprimono le vertenze sane del lavoro di questa città e crediamo che l'unica soluzione sia unire le nostre vertenze, unire le nostre battaglie. Il problema della situazione è proprio della politica che non ha saputo decidere, non ha saputo indicare la soluzione, non ha saputo tenere insieme le vertenze poste da migliaia di cittadini in questi otto anni di battaglie contro le grandi navi assieme alla tutela e alla difesa del reddito dei lavoratori che al porto ci vivono.